Il primo gol di questo campionato, tre punti pesantissimi, la conferma di una difesa molto solida. Gode il Picerno, attore del Greco, gode in coda alla partita. Lo scadere è dietro l'angolo quando Setola, entrato in campo pochi secondi prima al posto di guerra, sfrutta l'assist al bacio di Reginaldo e decide in favore dei Lucani il match degli Guori. Prima vittoria in questo campionato dunque per gli uomini di Antonio Palo, diventano così quattro i punti in classifica del Picerno, autore di una prova impeccabile per interpretazione tattica e spirito di sacrificio da parte del collettivo. Ospiti con vivacqua, principale terminale offensivo d'Angelo e Carrà ai suoi fianchi nel 4-3-3. Tascone dopo una decina di minuti ci prova dal limite con il mancino traiettoria alta. Azione orchestrata per la Turris, Leonetti con il destro a giro non conclude in maniera irresistibile. Albertazzi c'è. Primo quarto di gara, favorevole ai campani, Leonetti cerca ma non trova Varrutti per l'ottima interferenza di Vanacore. Padroni di casa in gol sul successivo calcio d'angolo con Manzi, ma l'arbitro annulla per un fallo in attacco. Insistono i campani, conclusione minacciosa di Tascone, bravo nella replica il portiere dei Lucani e in preciso invece il colpo di testa di Manzi sugli sviluppi di un corner. Resiste il Picerno che protesta poi per questo intervento in aria su Guerra e Pittarresi successivamente dalla distanza ad impegnare non più di tanto per la verità Perina. Passano i minuti ma si resta sullo 0-0. Buon finale di tempo per gli ospiti. Vivacqua si gira bene in aria, calcia con il mancino, il portiere della Turris è superlativo nella circostanza e riesce a deviare in corner. E prima del riposo si ripete ancora Perina mettendo in evidenza le sue doti. 0-0 all'intervallo. La ripresa si apre con una punizione fuori bersaglio di Giannone. Turris vicina al vantaggio prima dell'ora di gioco ma la sventola mancina di Tascone si stampa clamorosamente sulla traversa. Di nuovo sfortunati i campani quando è ancora la trasversale a negare la gioia del gol sul colpo di testa di Varrutti. Buon momento dei padroni di casa che vincono un rimpallo in aria avversaria. Malionetti spreca tutto. Stringe i denti il Picerno che difende in maniera compatta ed ordinata. Poi conclude in avanti. Reginaldo da buona posizione trova la risposta di Perina. Palo a zecca il cambio. Fuori guerra dentro Setola. Il neo entrato al primo pallone toccato sfrutta l'assist di Reginaldo e con il piattone destro porta in vantaggio i suoi. 0-1 all'iguori. Ha poco tempo per reagire la Turris. L'unico tentativo in pieno recupero è di Varrutti che incrocia non come avrebbe voluto. Vincono i Lucani che col primo gol della stagione tornano a casa con tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Una sola rete incassata in quattro partite per il Picerno che domenica prossima andrà a caccia contro il Messina anche del primo successo casalingo in questo campionato.